Amici di Quicomo, ci troviamo in via Castelbaradello, all'entrata del parco della Spina Verde, in un posto che ci si ispiterebbe di trovare pulito e protetto, tant'è che, andiamo a vedere, i cartelli inviterebbero i cittadini a non sporcare l'ambiente, vietato abbandonare i materiali di scarto. Eppure, guardiamo qui, una bella discarica, sacchi, spazzatura... Siamo andati a controllare in vari posti e abbiamo notato che questa discarica non è un fenomeno isolato, ma sembra essere un luogo comune qua. Guardiamo, qua c'è il bosco, inizia il bosco, andiamo a vedere nel bosco. Siamo saliti in mezzo al bosco, a pochi passi dalle case, siamo in mezzo al parco della Spina Verde e guardate che schifo. Andiamo a vedere. Questi sono sacchezze, sono solo una parte dei sacchi della spazzatura che abbiamo trovato. Guardando all'interno, sembrerebbe tutta plastica, carta, spazzatura, spazzatura varia. Proprio qui, in mezzo al parco della Spina Verde, in questo bellissimo bosco, con questo bellissimo panorama, a pochi passi dalle case, abbiamo una schifezza del genere. Questa è solo una piccola parte perché tutta la zona che abbiamo potuto controllare del parco della Spina Verde, salendo per il baradello, è piena di queste micro discariche dove c'è di tutto. Guardate, lì c'è uno stendino abbandonato. Sembrerebbe proprio il posto perfetto dove la gente viene la sera per buttare i rifiuti indesiderati. Addirittura, amici, una bottiglia di olio di motore. Guarda, guarda che schifo. Qua ci vorrebbero dei guanti per aprire e vedere cosa c'è dentro perché c'è di tutto, di tutto, un'inciviltà. Salendo solo qualche passo siamo riusciti a trovare altre parti di questa discarica a cielo aperto. Guardiamo qua. Addirittura c'è un condizionatore, altri sacchi, ruote di bicicletta. Insomma, quello che sembrava solamente qualche sacco abbandonato sembra veramente essere una discarica, tra l'altro in mezzo al parco regionale, ricordiamo, al parco regionale della Spina Verde. Una vera e propria discarica a cielo aperto. Bene, vi abbiamo mostrato in che stato di indecenza si trova il parco regionale della Spina Verde. Speriamo che il Comune di Como si prenda carico della situazione e faccia qualcosa per risolverla. Sappiamo che le segnalazioni sono già giunte in comune, noi non lasceremo cadere il caso e torneremo per vedere se la situazione verrà risolta. Per il momento è tutto, Alessandro Donegana, via Castelbradello, qui Como.